Sta prendendo forma alle nostre spalle il centro di quarantena ospitato nella base militare di San Polo a Podenzano, un'area collegata all'aeroporto dell'Aeronautica di San Damiano. I volontari della protezione civile di Piacenza sono al lavoro per installare il presidio medico avanzato insieme alla Croce Rossa, gli spogliatoi e gli altri locali per gli operatori sanitari che interagiranno con i pazienti contagiati provenienti anche dalla Lombardia. Alla Croce Rossa è invece il compito di costruire il presidio medico avanzato all'esterno delle palazzine dove risedieranno i pazienti. Secondo alcuni operatori coinvolti nell'intervento, il centro di quarantena preventiva potrebbe essere attivo già entro una settimana per ospitare almeno 40 cittadini provenienti anche da altre province. L'assessore regionale alla protezione civile Irene Priolo ha infatti comunicato la disponibilità ad accogliere gli abitanti della Lombardia che devono entrare in fase di isolamento nella base militare di San Polo.